Salve a tutti, abbiamo già avuto occasione di parlare del simbolismo delle monete e del ruolo della numismatica nella comunicazione politica di regola. I simboli vengono ostentati per comunicare il messaggio dell'ente che emette quelle monete con una narrazione che dovrebbe essere a sostegno del proprio potere. Poche volte ci è capitato di vedere una moneta così singolare emessa congiuntamente dalla zecca di Stato inglese e da quella statunitense come quella che commentiamo oggi in cui il simbolismo archetipale negativo contrasta in modo così palese con la descrizione ufficiale. Alcuni ambienti si è diffusa la convinzione secondo cui le attuali oligarchie del potere occidentale e in particolare quelle anglosassoni siano dotati di poteri quasi magici nella manipolazione dei simboli che effettivamente sono talvolta inquietanti come vediamo rappresentati nei film e nelle cerimonie pubbliche come quella dell'apertura delle olimpiadi a Londra nel 2012. Quanti si ricorderanno poi della moneta della mascherina in Italia in celebrazione della dittatura medicalista? Mentre è vero che il simbolo ha il potere di agire sulle coscienze soprattutto tra chi non è consapevole dei significati spesso molteplici di quel simbolo. La moneta che esaminiamo oggi getta parecchi dubbi sulla capacità manipolatoria degli autoproclamati padroni dell'universo. Con il progetto congiunto tra le due zecche di Stato dal titolo Uniti dalla fortitudine e dalla libertà si intende celebrare l'alleanza anglo-americana perno della politica dei rispettivi paesi durante gli ultimi decenni. In una serie di monete destinate ai collezionisti e per la precisazione quella statunitense è una medaglia mentre quella inglese è una moneta da investimento. Sono presenti sul rovescio la testa di Britannia e della libertà rappresentando appunto la Gran Bretagna e gli Stati Uniti con vicino il rispettivo simbolo ossia il tridente di Britannia e la fiaccola della libertà. Ma c'è un problema. Sulla moneta di ciascun paese il simbolo dell'altro viene raffigurato in posizione rovesciata a testa in giù. Ci siamo chiesti il motivo di questa raffigurazione e che cosa potesse significare essendo nata in ambienti che fanno come mestiere la manipolazione dei simboli. L'aspirazione ufficiale è che si tratta del motivo delle carte da gioco. Ma è davvero così? rispetto ai simboli nazionali Britannia una figura di donna seduta con scudo è presente sulle monete della Britannia di epoca romana. Ma venne ripreso questo simbolo dopo molti secoli soprattutto nel settecento con l'aggiunta del tridente nettuniano per fungere da nuovo simbolo allegorico dello stato inglese in alternativa al ritratto degli impopolari re anoveriani allora al centro di conflitti istituzionali. Con l'aggiunta del tridente di Nettuno si creava in effetti un nuovo simbolo che passa da quello difensivo con lo scudo alla figura quasi amazzonica di donna armata rappresentante il potere navale dell'impero inglese ed accompagnata da una canzone è diventata quasi il nuovo inno nazionale il famoso rule Britannia ossia domina Britannia. Poi sin dai primi anni anni le monete statunitensi hanno recato la figura della libertà con diverse fogge e posizioni tra mezzo busto una figura seduta o una figura in piedi con la dicitura liberty libertà tra i capelli sullo scudo e o in altra posizione. Nelle varie versioni dell'inno nazionale statunitense quello attuale venne ufficializzato solo nel 1931 si fa riferimento alla libertà o alla terra dei liberi. Con l'installazione della famosa statua della libertà a New York nel 1886 si diffonde quella immagine ricca di simbologia non usata precedentemente ripresa da quella solare mitraica una gigantesca statua femminile anche se qualcuno dice maschile dai sette raggi planetari in testa e con la fiaccola tesa verso l'alto. Nella mano sinistra la figura reca una tavola con la data del 1776 per indicare l'indipendenza. Qualche anno fa era uscita una moneta della minuscola isola inglese di Tristan de Cugnan in mezzo all'Atlantico medidionale. In questo caso la posizione di Britannia e della libertà si presenta paritaria con la stretta di mano. Sono presenti anche gli animali totemici il leone e l'aquila ma sono assenti gli altri attributi simbolici ossia la fiaccola e il tridente nettoniano. Sul orizzonte si vede un sole ma senza raggi. Nella nuova moneta del 2024 la figura della libertà americana torna ad una iconografia delle prime raffigurazioni una donna dai capelli sciolti e non coronata. La fiaccola ricorda appunto la statua della libertà la luce e il fuoco. La fiaccola è molto diffusa nella iconografia classica e si vede ad esempio sui freggi dei templi portata nei cortei sacri. La fiaccola rovesciata si trova specificamente nella iconografia mitraica. Ai due lati del toro figurano generalmente due portatori di fiaccole uno che tiene sollevata in alto la fiaccola e l'altra figura che capovolge la fiaccola verso terra. E' da precisare che ci pare alquanto opinabile la critica da parte di alcuni esigeti di cultura cristiano evangelica tesa ad intravedere nella presenza di simboli di derelazione classica il segno dell'esistenza di una specie di culto neopagano interpretazione che deriva dal travisamento della natura dei culti tradizionali singa l'epoca di Agostino. Certamente le oligarchie fondative degli Stati Uniti con l'intervento delle logge inglesi hanno sempre fatto man bassa del patrimonio simbolico custodito nelle varie correnti libero muratorie ma al mero fatto di utilizzare determinati simboli non dimostra affatto una effettiva trasmissione iniziatica né tantomeno il corretto uso di tali simboli ci pare più proficuo invece il paradigma di interpretazione che abbiamo già esposto in alcune analisi delle liturgie politiche in Italia e altri paesi ossia quell'apparato simbolico e rituale in cui si cerca di rafforzare a livello psicologico ma anche sottile la coerenza nazionale intorno ad una forza variamente riferibile al genius degli antichi al volksseller di Steiner e al egregore degli ermettisti. La fiacola rovesciata è in ogni caso un elemento simbolico molto diffuso nell'arte funeraria neoclassica in auge nel 800 e si rappresenta appunto lo spegnimento del fuoco e la cessazione della vita altrettanto in dubbio è il simbolismo del tridente rovesciato con le punte verso l'alto si indica l'azione combattiva nettoniana pronta a scattare mentre con le punte verso il basso si ha lo stesso significato della spada puntata verso il basso la cessazione del combattimento. Anche il simbolo delle teste rovesciate parla per sé ed è presente ad esempio tra gli arcani maggiori dei tarocchi. Fate queste considerazioni sul rovesciamento dei simboli si potrebbe ipotizzare una specie di guerra a colpi di simboli sulle due sponde dell'Atlantico. Sul verso delle nuove monete ciascun paese ha messo il proprio simbolo per rappresentare se stesso nel caso inglese la scelta è scontata con il ritratto del capo dello stato il re carlo terzo come su tutte le altre monete inglesi. Meno scontata la scelta americana con la raffigurazione di un sole a 12 raggi talvolta usato in sulle monete. Come nel caso del sole raffigurato vicino all'orizzonte in altri simboli politici si ricorderà il famoso sol dell'avenir del socialismo. Esso viene spiegato come il sole che sorge anche se nell'incisione su metallo è difficile se non impossibile distinguere dal sole che tramonta. Oggi il concetto degli Stati Uniti come paese portatore della libertà agli altri almeno nel significato più puntuale delle libertà civili o dell'indipendenza delle nazioni e dei popoli viene smentito ogni giorno dai fatti. Il potere navale sul quale si fondavano gli imperi marittimi è agli sgoccioli come apprendiamo anche dalle cronache di questi tempi rispetto all'impresa navale anglo americana in Medio Oriente che sembra voler richiamare i fasti di un potere coloniale che non tornerà più. La rappresentazione sulla moneta di un paese di importanti simboli in posizione rovesciata del paese con cui dovrebbe essere alleato più che celebrare l'alleanza sembrerebbe indicare la fine di tale alleanza. La constatazione è che i due paesi dovranno andare ognuno per conto proprio. È quasi come se ciascun paese volesse lavorare a livello simbolico per il depotenziamento dell'altro mantenendo invece sul lato nazionale della moneta il simbolo a cui tiene maggiormente nell'attuale fase storica. Resta quindi l'interrogativo sul motivo per il capovolgimento dei simboli nazionali. In questo momento particolare oltre al possibile scioglimento dell'alleanza si potrebbe ipotizzare un segnale teso a presagire una prossima trasformazione anche territoriale dei due stati. Secondo diversi analisti ad esempio si avvicina il momento della separazione consensuale tra Londra e l'Irlanda del Nord ponendo formalmente fine all'ente statuale denominato Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Si parla di un possibile distacco da Washington di fatto se non anche de jure di uno o più stati dell'Unione federale per motivi di contrasti insanabili con il potere centrale. Forse la risposta a tali domande non tarderà ad arrivare. Per adesso è tutto grazie e alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.